Però, visto che dorme, magari non ci fa neanche caso. Ma perché con questo tavolo così grande state tutti stretti in un angolo? Tutto è esaurito! Tutto è esaurito! Che esauriti sarete voi! Un concetto di vino? Io non bevo il vino. Ma bella scoperta non c'è? E allora non è da persona ben educata a firmere? Sei stata ben educata tu a sederti, senza essere stata nemmeno invitata. Non sapevo che la tavola fosse tutta vostra. È apparecchiata, altro che per tre. Sarebbe ora che ti tagliassi capelli. Non è bello criticare gli altri. È da mai educati. E' differente se c'è a toccare un tavolino. Oh, adesso viene il bello. Sono contenta che cominciano a fare gli indovinelli. Ci posso arrivare. Allora credi di sapere la risposta? Proprio così. Allora, dovresti dire quello che pensi? Lo faccio sempre. Almeno. Almeno penso a quel che dico. Che è la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa per niente. Sarebbe come dire che vedo già che manco e mangio già che vedo. Quanti ne abbiamo oggi? Quattro. Scorra di due giorni. E te l'avevo detto io che il burro non andava bene per il sottello. Ma era il burro, è pazientemente strevato. Sì, ma è un uomo che si è finita dentro dalle briciole. Non avresti dovuto spalmarlo con il portale del pane. Il burro è pazientemente strevato. È il migliore che ti dico. Che orologio strano. Dici i giorni del mese e non le ore del giorno. Perché? Forse il tuo orologio serve a forse che allora. No, adesso segna le sei. Ah, ma allora è per questo che ci sono tutte queste tazze da te? Sì, proprio per questo. È sempre l'ora del te e non lo abbiamo neanche un minuto per se quattro tazze fosse l'altra. Così dovete spostarvi da un posto all'altro, vero? Ma cosa succede quando ricominciate in giro? Sì, proprio per questo. E se cambiassimo il momento, mi sta venendo l'altra le ginocchia. Propongo che la testolina ci racconti una storia. Dici schiacente? Non ne so. Allora tocca al vero. Se le cose stanno così, allora io me ne vado. Sono attesa dalla regina per una gara di cricket.